Per la trasferta a casa dei cugini molfettesi, mister Claudio De Luca vara una formazione duttile e proteiforme, in grado di trasformarsi dal prediletto 4-2-3-1 al più puntuto 4-2-4. Dunque, un problema muscolare spedisce in tribuna l'imberbe carotenuto e fra i pali ci va Lonoce. Lanzolla e Danilo Colella sono la Maginò al centro della difesa. I cardini del gioco nel mezzo saranno il gladiatorino Mariani e il ringhioso impeccabile Manzo. Batteria di tre quartisti davanti con Danna e rientrante Triarico e l'aspirante di Oscuro Santoro a scambiarsi di ruolo con Capitan Lattanzio. Renato Bartoli si affida all'esperienza di De Gaulle, Bocadamo e Demoleon, spera nella voglia segreta di riscatto degli ex Pozze Bon e Turitto e punta sulla tecnica onnicomprensiva di Caputo. In un battibaleno la folgore aurorale che segnerà il destino dell'incontro. Una manciata di secondi, 8 per la precisione, e con la complicità di Ricchi, Santoro fuffa la sfera dei gol e uccella a viola, 0 a 1. Al settimo triangolo fra gli avanti bianco-rossi e botta al volo di Caputo, schermata dalla difesa. Al minuto 24 corner per i neroverdi, sfera che galleggia perigliosa accanto all'incrocio, solo brividi e nulla più. Corner diabolico di Triarico al 34esimo, legno che trema paurosamente, collo pieno di Santoro, alto. Quattro minuti dopo, su piazzato di Triarico, autotraversa di Demoleon, segue piattone strabico di Canutè in ribattuta. Al quarantunesimo, destro radente del difensore di colore, blocca viola. A 120 secondi dall'intervallo, destro quasi a giro di Camarà, decisamente fuori bersaglio. Nella ripresa, lo spirito di sacrificio corale rende coeso ancora di più il branco dei leoncelli e i rischi saranno pari a zero. Al secondo, scambio geometrico sulla fascia, era soterra di Danna che si ferma fra le braccia dell'estremo di casa. Poco prima del quarto d'ora, destro di Caputo senza vigore, agguanta sicuro il cuoio Lonoce che pure aveva rinviato corto. Al diciottesimo, provano il duetto artistico Santoro e Lattanzio. La difesa si salva con affanno in angolo. In un mare di tranquillità e di calcione al martoriato Montinaro, si giunge così al termine del match vittorioso per gli uomini del patron Francesco Rossiello, che si piazzano ad una sola incollatura dalla vetta.